Allora arriva da Montevilluna e per votarla, attenzione, potete farlo anche adesso in diretta su Radio Bella e Monella con l'SMS al numero 478-78. Digitate voto, quanto volete dare, naturalmente da 1 a 10, e poi spazio e 02, questo è il numero appunto di Celeste. In bocca al lupo, Celeste, con lo spettacolo del festival show di Radio Bella e Monella. Ma piove? No. Se c'è una via in piena tempesta, ciò creduto e ancora ci spero, non vedi che era tutto perfetto, si lo sai che non si torna indietro più. E poi la prima volta è finita così, diecimila litri di emoglobina, scusa ma almeno lo sniffo d'ocaina, era un fragile libido che ha lasciato solo un libido. E la prima volta è finita così, diecimila litri di emoglobina, scusa ma almeno lo sniffo d'occhio 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 d'occhio. E la prima volta è finita così, diecimila litri di emoglobina, scusa ma almeno lo sniffo d'occhio 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 d'occhio. E la prima volta è finita così, diecimila litri di emoglobina, scusa ma almeno lo sniffo d'occhio d'occhio. E la prima volta è finita così, diecimila litri di emoglobina, scusa ma almeno lo sniffo d'occhio 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 d'occhio. E la prima volta è finita così, diecimila litri di emoglobina, scusa ma almeno lo sniffo d'occhio d'occhio d'occhio. Ma una nuova primavera, che sei già malinconia, che scivola via. E allora corro quando ho vento quando sento non fermarti mai. Dalla verità, promessa in tante tiume al nostro giugno, giugno in vicinità, ma sono libera di cantare, sono libera di ricominciare a vivere, viverai. Un giorno capirai e sorriderai, un giorno gli occhi aprirai e sorriderai. Ma che dolcezza, celeste! Bellissima, celeste!